Le criticità che caratterizzano lo scenario internazionale sono state al centro dell'incontro tra Papa Francesco e gli ambasciatori di Kazakistan, Mauritania, Nepal, Niger, Sudan, Trinidad e Tobago per la presentazione delle lettere credenziali. Il pontefice ha esortato gli stati ad una maggiore consapevolezza dei comportamenti e delle azioni necessarie per imboccare un percorso di pace. Tra i fattori che penalizzano questo cammino ha ricordato l'economia e la finanza che servono solo se stesse, l'abuso della religione per giustificare la sete di potere e la strumentalizzazione del nome di Dio. A queste degradazioni e ai rischi che se fanno correre alla faccia del mondo si risponde costruendo un'economia e una finanza responsabile di fronte alle sorti dell'essere umano e delle comunità in cui si trova inserito. L'uomo e non il denaro torni ad essere il fine dell'economia. Il dialogo e la diplomazia sono state indicate dal Papa come la via per superare gli ostacoli e la pace, isolando chiunque cerchi di trasformare un'identità religiosa in motivo di odio per tutti gli altri.